ciao a tutti squali pesciolini e benvenuti in questo nuovo episodio di non ve lo dico sono mami di di nell'italia shark sono in compagnia del nostro amico emanuele 98 ma io non sono un amico non sei un amico e ragazzi allora ora vi spiego come nasce sto video si aspetta 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 e devo spiegare una cosa innanzitutto ci ci scusiamo perché oggi non siamo riusciti a caricare un video questo video oddio chi è questo questo video uscirà domani e sappiate che io mi sono appena sparato 1100 chilometri in macchina quindi sono un po' rincoglionito comunque ragazzi sto video è giusto di presentazione della nuova serie che sarà fighissima no io ho spoilerato già tutto comunque figa la passarella ma che cazzo è sto passare? che cos'è sta roba che gira un ufo? ehi 3 2 1 via oddio 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 si comincia si comincia allora ragazzi cominciamo col dirvi due cose allora calma 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 ehi ma spieghiamo prima e poi capiamo leggi da te di questo si fermo 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 è tutto in inglese allora ragazzi abbiamo siamo forse i primi in italia anzi lo dico siamo i primi in italia va a fatica e scrivi e smentiteci sotto il video se non è così speriamo che non sia così così non ci smentite siamo i primi in italia a fare questa mod ovviamente in italiano ed è la mod del signore degli anelli ragazzi è una figata ci stanno tutte le razze ci sta una mappa infinita che si apre col tasto l ci stanno vedete ci stanno tutte le mordor le montagne il fosso di elm ci stanno tutte ci stanno le varie razze ci stanno nuovi npc armi e quest non è scena c'è anche la razza di di si spacciati giacquato una razza di coglioni no povero siete spacciati ovviamente essendo tardi e non riuscite a reccare con noi però ci seguirà nella serie stiamo su un server che non conosciamo infatti siamo entrati per la prima volta l'abbiamo fatto in diretta con voi quindi se cambiamo server perchè fa cagare quindi abbiate pazienza è una mod che non conosciamo e il server per il momento è premium sarà molto molto difficile trovarlo per sp ve lo dico ragazzi una cosa molto importante che il server è in inglese quindi quindi io vi devo tradurre tutto oh adesso sei scemo bravo bravo allora cominciamo rules room stanza delle regole ok factions room stanza delle fazioni ok faction room stanza delle fazioni warp room stanza dei warp freedom libertà yeah freedom libertà yeah oh ma se io entro di nuovo qua mi fa uscire no non mi fa uscire ok ok e ma e ma vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua allora us slash ch to go into local chat us ch ah c slash ch l slash ch g to speak to every player ch ok e vabbè chi sta fregando e qua dove si va? faction room non me ne frega niente andiamo alla warp room andiamo a vedere no andiamo alla rules no andiamo alla rules prima vieni 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 allora e te lo chiedi te lo chiedi te lo chiedi allora rules ma ho tutte ste regole ma leggi leggi ma allora pvp è permesso come ehm ah si possono mantenere gli item droppati i player non devono fare tp o sloggare durante un combattimento ehm custom waypoint devono essere al massimo mille ah un k dovrebbe essere mille blocchi lontani da una base nemica quindi i waypoint i waypoint zitto sono dislessico i waypoint devono essere al massimo cioè devono essere ehm almeno mille blocchi lontani dalla base nemica poi non devi swear or use caps ah non devi usare molto i maiuscoli ok ehm non spammare ehm always listen to the owner and or ah senti sempre gli admin è il signore dio tuo nostro poi basso poi OWNEVERGRE YOUFORSTEEL dynamic people Ch准 non rifare e ne sempre dieci comandamenti, ragazzi comunque poi don't ask tion non chiedere di essere un creativo o un animista oh, che è sto rumore oddio oddio oh. sentiamo che tu sto rumore ma un po' che cos'è che cos'era bocmo ho paura succedono cose strane in sto setta e mi sono state le palle del regolamento non ci stanno i comandi qua no ma che cazzo infatti ok dai andiamo nella stanza guarda dai ma che non so un cavo ah vediamo freedom vediamo freedom vediamo allora size 1 market boot 128 coins 5 coin a week size 2 plot small shop 256 coins warp to shop zones size step pro ah vedi ti puoi comprare oh è ma non ci vedevo ti puoi comprare i plot hai visto perchè si compra quanti soldi ho io io sono povera ah vediamo i comandi help ok essentials spawn back balance get pos vediamo balance 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 bello c'ho 0 mammy 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 fai tasto destro su quel pulsante crudi dove sei andato fai tasto destro su quel pulsante e dove mammy la birra no è buono no la birra ma ragazzi stanno certe cose in sto in sto modepack ma mi dimenticare anche i tips that way get drunk dai mi trovo un barile una bocca ma dobbiamo capire però come funziona o no che cazzo è stato ho rotto dicami bannano ero no no che figa sta torcia 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 dei hierfi non l'ho mai vista bella ma poi possiamo griffare ma tu non griffare ma che cazzo è eh ma però così non capiamo niente meno male che sto video doveva durare due secondi oh non mi venare oh ma ci possono venire no oh stai fermo oddio allora fammi capire qui cosa si fa ho fatto no non mi siamo spawnati a casa di qualcuno come ma come se non si possono comprare sti così come si comprano ma cosa cosa si è ma tu m'hai fatto in acquaio ma come c'è me ne vado via e non c'è sto un griffo eh lei ci sono un griffo vediamo si forse funziona proviamo tutti tutti un sette secondi nini nini ok dove sono capitato mo ancora qua che palla mamma c'è il pacco mamma c'è il pacco c'è il pacco ma dove vieni vieni dove stavo prima vieni facciamo vedere è un po' come si vuole oh se fai slash spawn torni all'anello lo sai non so che torna l'anello aspetta voglio una fila più a colore ok allora io direi che sto chiamo qui questo primo episodio di presentazione capiamo come funziona il server e ci vediamo al prossimo episodio e ma stoppiamo eh ma eh ma mamma aspetta ho fatto un attimo pubblico inizio 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 proviamo il tpm lord blu 345 vai 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 accetta 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 e vai funzionanti accetta 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 far vedere che se voliamo inizio 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 si può ubriacare man mano che bevi la tua capacità di ubriacarti aumenta quindi puoi bere roba sempre più forte e puoi bere sempre di più ma sai questa quanta eracorica 15% 15 ma sei un pazzo ma neanche te del bambino è vero vabbè ragazzi secondo me questa serie sarà una figata pazzesca ovviamente tipo facciamo i tavolini ci sediamo e beviamo beviamo e fumiamo com'è secondo me agli iscritti stavano il mal di testa io stoppo l'episodio ragazzi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti